musica bella da ricchia raga bentornati su minecraft dunque possiamo riprendere da dove avevamo lasciato un attimino ok beh se sta pure a far notte niente di meglio che la notte chi è ok sono ancora tipo una specie di sono ancora come uno schlimio pure io dunque mi piazzo il letto così fa giorno dormo proprio sul ciglio qui del burrone così se cado mentre dormo mi butto giù e mi ammazzo ok quindi abbiamo fatto una bella dormita allora che cosa dovevamo fare dovevamo andare nell'altra isoletta lì per vedere un po' com'è la situazione quindi il metodo più semplice beh abbiamo un mucchio di legna quindi ovviamente è un metodo abbastanza sicuro si fa per dire ci vuole un po' di tempo ma ce la dovremmo fare ma ce la dovremmo fare facciamo un ponte sospeso nell'aria ecco vedete che ci vuole va quasi pure ok oh minchia mi ha preso un colpo doppia botta mi ha fatto prendere un colpo mamma mia però mi cago sotto se cado guarda guarda che altezza madonna cioè mi sembra quasi di stare sopra l'aria dai ma questo è pazzo madonna mia minchia mi cago sotto veramente se mo mi sbuca fuori quel mostro mentre piazzo gli ultimi blocchi veramente speriamo bene allora c'era un coccodrillo eccolo la più di uno alligator come va madonna mia sono tutti incazzati neri ue 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 uno già è tosto ok ok brutto bastardo muori muori brutto stronzo ecche fangulo muori mi faccio l'arco io avanti oh caca ah maia chi è sto cosa questo bastardo muori ok ok non droppate più niente mo non droppato niente che peccato un po' di esperienza mi sento più scassato che buono non c'ho il pane che culo chi è ah quasi dai e droppa qualcosa mamma mia che brutto infami droppano niente andiamo a vedere dall'altro lato mamma mia che altezza che altezza stratosferica ti voglio per scendere oltretutto madonna chi è è un pezzo e merda è che mi stava menando lo stronzo dunque ha droppato qualcosa no l'unica cosa sono sto blast protection che mi ha dato voglio vedere se mi droppa qualcos'altro di figo raga così che magari mi da una buona protezione contro qualcosa a parte ciò a parte ciò che è sto corcoso verde aspettate andiamo provo un po' staccetta qua che roba è con celata e green slime un po' di legno non ci vedo a me ne fega niente sta roba ok beh direi che potremmo anche scendere perchè tanto non c'è altro mi zzi che che è quel coso cazzo se quello mi da una botta mi fa cadere giù e muori minchiamori cacchio se solo ristretto un po' tutto stronzetto piccolino deve aver solo avuto un po' di culo all'inizio che mi ha droppato tutta quella roba figa perchè adesso non c'è più niente allora direi che ce ne dobbiamo andare da qua è inutile stare ancora qua quindi vediamo un po' che cosa mi conviene portarmi e cosa non mi conviene portarmi questi non mi fega niente questi me li posso portare questi me li porto questi me li porto questi ma questi veramente non c'è tutta sta necessità carote pollo ok e muori minchia a posto allora non riesco a salire se ne possiamo andare come fammi a scendere oddio mio oddio mio mi butta in acqua mi sa che muoio c'ho paura mi potrei buttare in acqua sarebbe un moto veloce per scendere iiii quant'è alto madonna banzai che culo sono vivo mi sono dimenticato il letto porca di quella miseria cazzo se sta pure a fa notte magnifico ho dimenticato il letto ho dimenticato il letto e che posto è mai questo bello troverò la morte o quantomeno trovo piante verdi fluorescenti come si dice c'è nessuno chi è quello mi sto cagando sotto sta musica di sottofondo sinceramente non è che aiuta what ah dove cammino io si congela tutto forte dove cammino si congela l'acqua ecco perché non sono morto forse quando mi sono buttato mio dio cazzo che posto eeeh fangulo mi fate pigliare un colpo per niente oh my god questo posto è enorme c'è qualcosa là chi è un uccellino chi è ah un piccolo uccellino un uccellino bensì il come si chiama non mi viene in mente wow iii allora un pipistrello ecco così si chiama pipistrello ma sto posto è schifosamente enorme che cazzo di posto è mi sto cagando sotto what the fuck what the fuck minchia che culo ma vaffanculo il creeper dai ho pensato mo chissà quanto è lungo qua pensavo era un burrone che ora muoio oltretutto vado a rinascere sopra quell'albero di slim ma che cazzo di posto è sembra quasi la superficie nel sotterraneo ecco non so come dirlo meglio che è chi è chi è ma vaffanculo ma che posto è posto strano com'è cos'è dove cammino io non si congela più ah ecco forte dove cammino io congela tutto che roba è dunque il carbone lo prendo perché ho già quasi finito le torce ok il carbone ce l'abbiamo dunque bastoncini ne abbiamo no questo lo tolgo non me ne faccio niente quindi un po' di torce le facciamo ancora più torce sento qualcuno camminare allora do cacchio è che ero io prima effettivamente adesso ritrovare l'uscita è una parola è un po' di torce è un po' di torce ma qua ah qua è dove praticamente oh 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 questi poco fa non c'erano oh ma notte palle tu e che cazzo ma pezzi di merda e la stai e la stai non c'erano e la stai e la stai che va a fare un culo ma tutti che mi sparano in culo qua oh ma pek che mira che c'hanno eh non si scherza figlio di bottena oh ma ha rotto l'anima mi hai proprio rotto l'anima ma che vuoi ma chi ti conosce va a fare un culo mamma mia come sca ancora e sti cacchio di funghi qua ma che cazzo me ne fo mentre che siamo qua sta roba si è mata non peccato lasciarlo ecche mi spacca le orecchie ok vabbè dai un po' di carbone per sicurezza ma qui sotto mi sa che c'è qualche cosa si si io chi è madonna mi ha preso un colpo madonna mi sento leggermente preoccupato e soprattutto sto messo male allora sto messo male ho bisogno assolutamente allora ma sto cazzo di coso che rompe l'anima dunque ho bisogno di una spada no al contrario dunque che materiali abbiamo giusto appena neanche il cobblestone c'ho questa roba se vuole fare una spada no allora un po' di cobblestone la pigliamo subito giustamente c'è sempre qualcosa che rompe quindi cobblestone ecco qua questo posto dire che è grande è poco mio dio che ho oh fuck sarebbe un buon modo per scendere e salire però questa congela se ci vado sopra ehi ma qua sopra non è che spider? oh fuck no 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 allora non mi piace molto perché finisce che qua mi perdo e poi non riesco neanche più a trovare l'uscita tanto già qua sicuramente adesso mi danno l'accoglienza dove sono? vediamo se riusciamo a trovare un attimino il modo per facchio pezzo di merda per un pelo mi sono salvato per un pelo oddio è che buoni stronzo no che oh shit è che quello balla che c'è balla a fa stop è stronzo mio dio è già c'ho culo che non muoio su colpo no 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 oh mi sono rotto il casso però eh ora basta e che quattro di fila ma proprio mi vogliono morto è un altro alleluia dai scoppia va a fa va a fa a fa un golo mio dio ragazzi sto posto mi fa schifo veramente cioè il posto il posto non è male va a fa un golo tutti i tuoi cugini c'hanno una mira buona ma tu fai schifo dio dio caro dio caro dio caro che posto è wow la lava non mi piace madonna madonna ma no ma sto posto è enorme raga oddio no un altro ma proprio un vizio allora porca no non ne posso più di sto posto io me ne scappo e che qua mi viene un esaurimento nervoso con tutti sti creeper non ce la faccio più voglio andarmene via dov'è io me ne vado io me ne vado di qua non ce la faccio più voglio uscire di qua come si fa mi ricordo nemmeno da dove sono venuto con lo stronzo là sotto io me ne frega niente che mi faccio prendere mica dai vai su vai su vai su me ne voglio andata sto postaccio maledetto oro almeno qualcosa si trova solo un miracolo mi scommetto che mi sbuca qualche creeper pure qua un po' tranquillo avanti congelo tutto così non rompe l'anima st'acqua l'uscita miracolo fammi prendere l'oro madonna ragazzi il posto bellissimo veramente me ne voglio me ne voglio me ne voglio me ne voglio di qua che non ce la faccio più veramente oh e ne voglio finalmente si e mo non me lo prende allora che butta buttiamo sta spada che tanto non serve a niente dunque questo metto qua questo metto qua do un'occhiatina qua sopra dai no ma non scendo non scendo più non ce l'ho più sotto beh ok no giù non ci vado più perché sinceramente mi è bastato già quei creeper lì mi sono bastati allora qua c'è l'uscita in teoria vedete c'è scritto exit col cazzo non c'è l'uscita oh mio dio ho detto una cassata pazzesca altro che uscita ok non c'è l'uscita allora se non c'è l'uscita voglio uscire di qua oro però sento le pecore se sento le pecore non posso essere lontano ma fangulo mi è preso un colpo cazzo ah l'uscita un miracolo è un miracolo un miracolo dell'arte moderna sto posto è enorme e vai sono fuori miracolo non ci scendo più ciao gallina libertà oddio che è quella roba mi serve la lana la lana la lana la lana che butto questa non mi serve questa non mi serve lana eh allora lana ne ho solo uno c'era qualche altra pegora qua vicino perchè mi devo fare un altro letto perchè se si fa notte qua so cassia maris pecore oh il bello è che adesso posso camminare sopra l'acqua va che roba oh shit eh mi serve un letto mannaggia e il maiale non manca cos'è sto posto oppure è finito il coso qua ah ma c'ho quest'altro pecore buongiorno signora gallina eh mi servono le pecore oh quando servono ste cavolo di pecore non le trovi mai madonna mia oh non ce vado creeper oh alleluia e magari c'è qualcosa dentro quella casa o o ex casa che roba si bello non c'è proprio niente nooo eh oh che te lamenti per star bene dunque pecore in vista niente mucca a volontà anzi è pur vero che con le mucche mi posso fare un po' di protezione allora per intanto comunque io voglio un letto perché se non mi faccio un letto sono inchiappettato oh portale proprio messo in un punto bellissimo what the fuck shit no oh mio dio che cazzo sto posto mette i brividi eh ma questo non è un blocco di diamante what the fuck non ci credo oh mio dio oh mio dio eccolo qua eccolo qua il blocchetto di diamante almeno quello scatta puro un po' eh allora vediamo un po' che butto golden boots vabbè questo è un bel frego allora gvul vul questo non mi ne frego niente block of diamants bello ok mo l'uscita è importante trovare l'uscita è importante scatta da morire un posto strano raga allora che cosa ho la legna non ce l'ho più quindi devo buttare qualche cosa che non mi serve un po' di legna vorrei cercare di tornare là sopra cerco di riguadagnarmi l'uscita oh fuck che cazzo che cazzo che cazzo è che cazzo oh mio dio sto gioco è strano non ci credo dove cazzo mi ha portato oh mio dio raga ma che cazzo ma che cazzo che è successo oddio e che so sti blocchi che si girano e soprattutto do cazzo dell'uscita oh no oh mi no ma son fottuto dai sono fottuto cioè ok qualcuno c'eva ragione che mi ha detto non entrare nei portali non andare in giro cazzo ok è un bel problema si è un bel problema non so minimamente dove mi trovo non so cosa siano sti blocchi di pietra che si girano sembrano tipo gli enderman però fatti a blocchi di pietra e mi sa tanto che non c'è neanche un'uscita da sto posto ma in teoria dovrebbe dovrebbe esserci un'uscita in teoria perché voglio dire non è che è obbligo che io mi suicida però cacchio proprio quando ho trovato dei blocchi di diamante non c'è niente in sto posto niente a parte sti blocchi di pietra che si girano che non vorrei siano degli enderman quindi cerco di tenere la vista bassa ok è un bel problema sì è un bel problema il posto è enorme mega enorme il posto è schifosamente enorme monolith aggressivo oh alleluia beh raga non so non so che fa non so che dirvi oh mio dio oh cazzo non si mette bene raga ma beh raga io direi che vado a concludere questo gameplay perché è già durato un bel po' e poi non so vediamo se riesco a trovare un modo di uscire di qua o se devo per forza morire quindi ragazzuoli che ve devo dire concludiamo il video e spero che vi sia piaciuto ragazzi se avete qualche consiglio datemelo commentate quindi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e se volete lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto e nient'altro dai va bene quindi raga io vi saluto ci becchiamo presto in un altro gameplay statevi bene raga va bene ciao alla prossima raga